E il Monza ha pareggiato a San Silo con Finotto. Il Milan è stato sorpreso, Ibrahimovic, l'avete visto, stava protestando, lamentandosi, forse con gli avversari, forse con l'arbitro, forse con qualche compagno. Insomma, il Milan ha concesso al Monza di battere questo calcio di punizione. Molto bravo Finotto, con la sua velocità, la sua inattività, a muoversi e a sfruttare questa battuta esperta da parte di Paletta. Anticipo su Donnarumma e tocco morbido di Finotto. Sì, ma i centrali difensivi del Milan in questo caso hanno un po' dormito, troppo attratti dal pallone, non pensavano che Paletta avesse già visto il movimento di Finotto, che è un ottimo realizzatore, insomma, non solo del campionato passato, che è stato il capocornio di questa squadra.